la squadra nemica ha catturato l'area la nostra squadra ha catturato l'area bersagli nemici affidati siluri nemici avvistati negativo siluri sovralimentazione attivata bersaglio agganciato bersaglio colpito bel colpo la nostra squadra ha catturato l'area ottimo lavoro difendere l'area B affermativo sovralimentazione attivata nave nemica agganciata grazie a tutti che lori abbiamo colpito il nemico miluri nemici avvistati sovralimentazione attivata la situazione è sotto controllo grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti la squadra nemica sta per vincere grazie a tutti 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 grazie a tutti